Surrealismo. Il principale teorico del surrealismo è il poeta André Breton, che è influenzato dalla lettura dell'interpretazione dei sogni di Freud del 1899. In pratica, il primo manifesto surrealista, che è del 24, 1924, esalta l'automatismo psichico. In pratica, quel processo in cui l'inconscio, quella parte di noi che emerge durante i sogni, ci permette poi di fare anche da svegli delle libere associazioni di parole, dei pensieri, delle immagini, senza freni inibitori, senza scopi apparenti. Infatti, il mondo onirico è quello che sarà il soggetto principale del surrealismo, in pratica il mondo dei sogni. Il punto finale del movimento surrealista è sicuramente la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè nel 1945. Miró ha un modo un po' allucinato di creare un mondo parallelo, questa costellazione amorosa, se voi la guardate bene, è sì un'opera astratta, però è anche in parte riconoscibile. Possiamo vedere degli occhi, quasi dei pesci forse, delle stelle, dei baffi, chi lo sa, qualche forma comunque sempre mediamente riconoscibile c'è. Ma nell'insieme sono sicuramente opere astratte, però sempre molto gioiose, sono coloratissime, coi colori forti della Spagna. E infatti possiamo trovare delle opere di Miró anche a Barcellona, come ad esempio questa donna uccello, che è una fontana pubblica enorme e coloratissima. René Magritte punta molto proprio sull'estraneamento dalla realtà. Lui fa proprio dei giochi sul vero, non vero o veramente falso. Sono delle illusioni ottiche i suoi dipinti molto spesso. Sceglie sempre soggetti normali, sono assolutamente normali e ben riconoscibili, però li ambienta e li utilizza in modo originale, a volte quasi assurdo. Per esempio nella condizione umana c'è un cavalletto con una tela davanti a un paesaggio, ma è una tela oppure un vetro, perché il paesaggio coincide esattamente col paesaggio reale. Ma nella chiave dei campi il vetro si rompe, guardate bene il vetro rotto. Le parti di vetro hanno ancora come se fosse stampato sopra il paesaggio che si vedeva attraverso. In Golconda piovono omini con la bombetta, che è un po' la sua cifra stilistica, il suo simbolo. Piovono proprio con le ombre, sono fatti bene, però non è pioggia, sono omini. Del resto abbiamo anche una coltivazione di pappagalli. Ma i pappagalli si coltivano? Certo che no, ma nel mondo di Magritte sì. La cosa folle è che nel mondo di Magritte ci sono anche questi stivali che sono dei piedi. Alla fine c'è anche una marca famosa sportiva che poi li ha realizzati, per cui questa opera surreale all'epoca adesso è diventata reale, perché ci sono proprio le scarpe da tennis, quelle per fare trekking, che hanno le dita dei piedi, come le aveva ipotizzate Magritte. Ma una delle opere che spiegano meglio proprio il surrealismo di Magritte è Se si ne spassa un pipa. Questa non è una pipa, però è una pipa, direte voi. No, non è una pipa. Potete fumarla? No. Potete usarla per fumare? No, è un quadro, è un dipinto. Quindi è una pipa che però non è una pipa, però forse tecnicamente sarebbe una pipa, chissà. Salvador Dalì, pittore, scultore, scenografo, designer, con il gusto della stravaganza. Proprio una personalità molto particolare, anche molto sicura di sé. Infatti, quando si fa un autoritratto, vedete bene chi sarebbe in pratica questo autoritratto? È la Mona Lisa, alla quale, con un giochino appunto fotografico, sostituisce i suoi occhi, mette i suoi baffi, questi un po' baffoni particolari, e addirittura le sue mani. Se ti guardate ben da vicino, sono pelose, infatti sono le sue mani. Qui sta proprio dichiarando al mondo di essere lui un'opera d'arte stessa, cioè non è solo la gioconda, lui è ormai un'opera d'arte vivente, ma in pratica un po' lo era, era diventato talmente famoso, che davvero era come se fosse un'opera d'arte vivente. Ma le sue opere vanno oltre, per esempio c'era My West, che era un'attrice famosa come se fosse la Marilyn Monroe dell'epoca, bionda, molto bella, infatti qua possiamo vedere un'immagine, alla quale sicuramente Salvador Dalì si è ispirato per realizzare una scenografia nel suo salotto, dove le tende sono i capelli, i gradini sono il collo, insomma la fine del collo, quindi la collana, la bocca è un bellissimo, è comodo anche, mi ci sono seduta, divano rosso di pelle, il camino e il naso, i due occhi e sono due quadri, però visto prospetticamente viene ricreata proprio in tridimensione, quasi, il volto di My West. Nella persistenza della memoria invece ci fa capire quanto il tempo, il passare del tempo sia relativo. Le ore e i minuti si trasformano, si modificano, quanto è lungo un'ora di matematica e quanto è breve l'intervallo. Questo è un dato di fatto anche per Dalì, quindi i suoi orologi non segnano un'ora normale, ma segnano un'ora dilatata nel tempo. Dalì ama giocare con le immagini, quindi proprio ama il discorso anche delle illusioni ottiche. Se noi guardiamo il volto della guerra, nei fori, appunto, degli occhi e della bocca, troviamo altrettanti teschi, quindi un teschio con dentro dei teschi, con dentro dei teschi, con dentro dei teschi, con dentro dei teschi. Insomma, in pratica è quasi un gioco di specchi all'infinito. Ma nel bambino geopolitico vediamo una cosa un po' assurda, con un uomo che esce da un uovo, che però non è solo un uovo, ma se guardate bene è un mondo. E quindi anche qua è qualcosa di insolito, assolutamente improbabile. Invece nell'apparizione del volto e del piatto di frutta sulla spiaggia dipende proprio da cosa vi mettete a fissare, perché potrebbe davvero essere un tavolino con una specie di fruttiera, insomma un piatto un po' alto, un'alzata, bianca. Però se invece guardate solo la fronte, diciamo, di quello che è questo volto nascosto, potreste vedere una normale insenatura nell'acqua, con delle rocce e il paese di fianco, e la spiaggia diventa quello che è poi il tavolo un po' bianco color sabbietta. Quindi anche qua è un po' il gioco del vedo e non vedo. Da lì collaborerà anche con Walt Disney. Infatti progetterà Destino, un cortometraggio proprio a cartone animati, nella durata di circa sei minuti, proprio poco poco, insomma con le sigle inizio e i finali, se arriva ai 10-15 minuti non di più, che verrà però realizzato davvero nel 2003, perché nel 1999 il nipote di Walt Disney decide di rispolverare questo progetto, che all'epoca della sua progettazione nel 1945 era poi stato accantonato da Walt Disney e anche dallo sesto artista spagnolo, appunto Salvador Dalì, perché c'erano proprio troppi problemi economici, insomma, e fra l'altro eravamo ancora in guerra, insomma appena finita la guerra, problemi economici erano tanti, e quindi l'aveva accantonato. Però è un cartone animato molto particolare, è la storia appunto di due persone che si amano, un lui e una lei, un amore travagliato, infatti si trovano, poi si perdono, succede un po' di tutto, ma in tutto questo che succede troviamo personaggi che accompagnano questa storia d'amore che sono in realtà le opere d'arte di Dalì, che si trasformano proprio con dei giochi quasi di vedo non vedo, anche qua sempre ritorna questo giochino, questa voglia di stupire, e sono appunto le opere d'arte di Dalì che vengono utilizzate per fare una parte di questo cartone animato, diventano personaggi vivi che collaborano alla storia, ma sono comunque riconoscibili, soprattutto per chi conosce le opere dell'artista.